Per lei è come confessare che una donna potrebbe farle perdere la testa, ma non destar fiducia. Bella l'idea della donna attascabile, sempre muta e arrendevole. Perdere la testa che effetto fa? Che effetto fece a Johnny? Il guaio è che, come amava Johnny, non così amavo io. Non così intensamente. Sì, era quello che sospettava. Dovevo partire con lui perché era la persona più buona che io conoscessi. E perché ero sola. Già, le donne sono nate solo per l'amore. Ma che accade, Rip, quando nulla va come si vorrebbe e la vita è una musica priva d'armonia? Cosa si fa? Si continua a cantare e a mandar giù Raymond Jim Fix.